Veniva sfruttato per più di undici ore al giorno, svolgendo qualunque tipo di mansione, senza aver nessun diritto al riposo o alle ferie. Il suo alloggio era un contenere fatiscente, mentre per i servizi igienici si serviva di un pozzo, lo stesso da cui bevevano gli animali. Erano queste le condizioni in cui era costretto a vivere un ragazzo bengalese di 24 anni, senza fisse dimora e senza permesso di soggiorno, operaio in un'impresa agricola di casa massima. La scoperta è stata fatta dai carabinieri, che al termine di un sopralluogo nell'azienda hanno messo le manette ai polsi del titolare, un 46enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo pagava l'immigrato 1,80 euro l'ora, trattandolo di fatto come un vero e proprio schiavo. Fin dalle prime luci dell'alba, il giovane usciva dalla masseria per condurre al pascolo un greggio di pecore, rientrando solo al tramonto. Era impiegato come factotum, occupandosi di tutte le attività inerenti agli animali, come mungitura, pulizia e pascolo. A fine giornata, ritornava nel suo alloggio, un container costruito assemblando le cabine di un camion, nel quale la cucina era costituita da un piccolo fornello alimentato con una bombola di gas. Il datore di lavoro aveva imposto la sua volontà, negando all'operaio qualunque aumento di stipendio e approfittando del suo stato di difficoltà. L'immigrato era infatti costretto ad accettare qualsiasi condizione, pur di raccimolare i soldi da spedire a moglie e figli nel suo paese d'origine. Da circa due mesi, tuttavia, non veniva retribuito. Il titolare dell'impresa agricola è stato sottoposto ai domiciliari con l'accusa di sfruttamento del lavoro e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dovrà inoltre pagare sanzioni per quasi 60.000 euro. L'attività è stata sospesa.